Industria, produzione giugno più 1,1 su mese, più 5,3 su anno A Gempres. Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la produzione industriale a giugno cresce dell'1,1 rispetto a maggio e del 5,3 rispetto a giugno 2016, nei dati corretti per gli effetti di calendario In particolare, è decisamente positivo il balzo dei beni di consumo, saliti del 5,6 su base annua, con un boom di quelli durevoli del 10,6%. Si fa ora più concreta la speranza che non sia il solito sali e scendi, ma che si sia definitivamente innestato un percorso di crescita afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Un fatto importante, considerato che la strada da percorrere per tornare ai valori pre-crisi è ancora lunga, nonostante il notevole incremento reso noto oggi, visto che rispetto al giugno 2007 la produzione industriale è ancora inferiore del 19,6% conclude Dona. Secondo lo studio dell'Associazione di Consumatori, da giugno 2007 a giugno 2017, ossia in questi ultimi 10 anni di crisi, la produzione dei beni di consumo durevoli ha registrato un crollo del 30,4%, nonostante il balzo del 10,6% dell'ultimo anno. Tabella, indice della produzione industriale del mese di giugno, dati corretti per gli effetti di calendario. . Differenza giugno 2017-2017 Differenza giugno 2017-2016 beni intermedi-29,04,0 beni strumentali-16,25,1 beni di consumo durevoli-30,4-10,6 beni di consumo non durevoli-2,7-4,8 beni di consumo-8,6-5,6 energia-17,8-9,8. Totale Industria, meno 19,6-5,3. Fonte, Unione Nazionale Consumatori su elaborazione dati Istat.